Ancora rifiuti abbandonati in località Trentova ad Agropoli, si tratta di una zona dove più volte sono stati depositati rifiuti di ogni genere, tra la vegetazione lungo la strada come bottiglie, buste di plastica, materassi, resti di mattonelle, elettrodomestici, calcinacci, divani e tanto altro materiale. Più volte diversi cittadini hanno messo in risalto la problematica, soprattutto attraverso i social. Commenti del tipo che convenienza c'è nello scaricare questa robaccia in mezzo alla nostra natura, ad un passo dalla spiaggia e dalla riserva naturalistica del Tresino, esprimono tutto il rammarico e lo sdegno della comunità, infastiditi da gesti compiuti da incivili che non hanno alcun rispetto per l'ambiente che ci circonda. In più occasioni dei volontari armati di buste hanno provveduto a raccogliere l'immondizia gettata da chi si trovava lì di passaggio, agevolati anche da un posto lontano dal centro abitato e quindi meno frequentato. Infatti spesso gli operatori della cooperativa Il Faro, la società ILSPA in passato e l'Agropoli Cilento Servizi e la SARIM oggigiorno, i volontari del circolo Lega Ambiente Stella Maris di Agropoli e tanti cittadini sono stati sul posto per sgomberare il tutto. Delle telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare a contrastare questo fenomeno che sta diventando sempre più frequente, con la possibilità di identificare i possibili responsabili fautori di questi gesti incivili, atti che oltre a creare malcontento da parte dei cittadini rovinano non solo la qualità ma anche l'immagine della cittadina agropolese, meta ogni anno di numerosi turisti che decidono di visitare il territorio.